La formazione per la rubina immobiliare è sempre stato un obiettivo da perseguire. Da oltre 40 anni, ma sin dalla nascita della società, abbiamo tenuto con forti interesse per la formazione di tutto il personale, ma in special modo per noi che ci occupiamo di comunicazione, di interazione con la clientela, specializzarci e fare una migliore comunicazione è di fondamentale importanza. Oggi siamo stati insieme a un formatore a livello nazionale, Raffaele Galasso, che già ci ha seguiti nel nostro percorso da oltre 30 anni ed è stata una giornata formativa molto importante, che vale forse molto di più di un contratto fatto. Quindi grazie a Raffaele, grazie a tutto lo staff che mi ha supportato per questo evento. Grazie.